Benefici economici ed agevolazioni fiscali per una realtà, quella gelese, messa in ginocchio da una crisi economica senza precedenti, una boccata d'ossigeno per polmoni affaticati. Lo dice il sindaco di Gela, domenico Mersinese, subito dopo aver appreso che la giunta regionale di governo ha approvato la delibera sulla perimetrazione dell'area di crisi industriale complessa. L'atto, dopo un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato oltre un anno addietro, comprende i comuni appartenenti ai sistemi locali della lavoro, Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina. Adesso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa in Vitaria potrà avviare tutte quelle procedure che permetteranno di avere dei vantaggi non indifferenti. Diamo atto al governatore Rosario Crocetta, continua Mersinese, di aver mantenuto fede al suo impegno dopo le ultime sollecitazioni e auspichiamo che adesso si concretizzi il veloce utilizzo dei fondi di compensazione dell'ENI. Già martedì prossimo a Palazzo d'Orleans si darà un incontro al fine di individuare le prime opere da cantierare in tempi brevi. La città oggi non ha bisogno di discutere di priorità sulle opere da realizzare, ha rilanciato l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano. Non c'è più tempo per le concertazioni, adesso bisogna agire. Proporremo al tavolo regionale con Eni e Governo di perfezionare gli accordi per la riqualificazione del sistema portuale gelese, puntando sul progetto di ripristino funzionale del porto rifugio e uno studio di pre-progettazione per il rilancio della portualità industriale e per il riempiego delle acque non più in uso all'arfineria, tra cui quelle dell'invaso ragoleto, e la messa in funzione dell'impianto di trattamento delle acque refule depurate per usi rigui che si trova nell'area industriale. Portualità e agricoltura, infatti, ha concluso il Vice-Sindaco, devono ricollocare nel nuovo contesto di sviluppo territoriale la città di Gela come riferimento centrale per risvegliare una nuova era occupazionale in grado di contenere l'esasperazione sociale delle fasce marginali.